Poco più di un anno dopo l'evento alluvionale che il 27 e 28 luglio del 2019 colpì l'area retina e quella senese danneggiando numerosi privati ed imprese, la Regione Toscana ha approvata l'ordinanza con la quale dà il via all'erogazione del contributo in favore dei cittadini che subirono danni. Da oggi è possibile per i privati rendicontare le spese fatte per ripristinare case e proprietà e chiedere il rimborso rivolgendosi al proprio comune. Per i privati è disponibile un milione di euro in arrivo dal Governo a seguito del riconoscimento dello stato di emergenza. Dei 21 milioni e 250 mila euro del piano, circa 3 milioni servirono subito per interventi di somma urgenza. Altri due furono destinati alle prime misure di immediato sostegno alla popolazione e al tessuto sociale e produttivo. I restanti 16 milioni serviranno per interventi di riduzione del rischio idraulico nelle due province. 14 interventi sono previsti ad Arezzo, uno a Siena. L'obiettivo è innalzare il livello di sicurezza idraulica per mettere al sicuro la popolazione da altri eventi alluvionali.